Un giorno di primavera, una ragazza di appena 24 anni vede arrivare sul proprio conto corrente 50.000 euro. E la prima cosa che fa è firmare un assegno da 1.400 sopra il tavolino Ikea Fucsia. Bussa la vicina con ancora il pigiama addosso e le dà l'assegno firmato. Poi si prepara, esce di casa, percorre una strada privata fra Piazza Iside e Via Merulana, entra nel negozio di animali più cani più belli, compra una cuccia morbida, delle scatolette, croccantini e alcuni giochi. Paga 98 euro. Poco dopo va al supermercato PAM e spende 36,40 euro, una cifra regolare. Per una spesa per due persone. Infine, preleva 250 euro, che con le commissioni diventano 251,80. È il 14 giugno 2007. Lei indossa ancora gli abiti della sua vecchia vita e ha lo stesso taglio di capelli, le stesse scarpe, ma con i soldi nuovi andrà a comprarsi qualcosa di poco appariscente in un negozio dell'usato. Questo è il brano che Melissa Panarello ha scelto per cominciare a raccontare il suo nuovo romanzo, che si intitola Storia dei miei soldi. Protagoniste della storia sono due donne. Una si chiama Melissa, fa la scrittrice, e tanti anni prima ha avuto un grande successo con un romanzo, diventato poi un film. A interpretare Melissa nel film era un'attrice molto giovane e bella, Clara T. Melissa e Clara si sono ovviamente conosciute e frequentate ai tempi del film, ma poi si sono perse di vista. Molti anni dopo Melissa incontra Clara, che è una persona completamente diversa da quella che ricordava. La sua bellezza non c'è più, cancellata da una vita faticosa, che Clara le comincia a raccontare. Una vita che è una spirale e nella quale Clara T. ha perso tutto, soprattutto i soldi. Partiamo da una cosa che Clara dice a Melissa. Ti porto i miei estratti conto, altro che romanzi, è lì che trovi le storie della gente. E più avanti nel libro scrivi, che non è la quantità dei soldi che dice chi siamo, ma come li abbiamo spesi o persi. Che cosa raccontano i soldi di noi? I soldi sono la nostra fotografia. Il modo appunto in cui li abbiamo spesi, in cui li abbiamo guadagnati, come li abbiamo sperperati, come li abbiamo desiderati, racconta moltissimo di noi stessi. Perché è vero, i soldi non determinano un individuo, ma determinano sicuramente le scelte che può fare un individuo. Questa è una cosa che Clara mi racconta, che racconta alla Melissa nel libro, ovviamente. E a un certo punto Melissa capisce bene questa cosa quando appunto comincia a seguire i movimenti di Clara nel corso della sua vita o di parte della sua vita attraverso proprio il suo conto corrente, cioè che cosa ha fatto Clara con i soldi, come li ha guadagnati, come li ha spesi. Perché un conto corrente rappresenta una mappa, fondamentalmente, dove una persona si aggira all'interno di un luogo, all'interno di uno spazio e di un tempo facendo delle cose. E quelle cose che fai determinano poi alla fine chi sei. Perché tu puoi dare a te stesso qualsiasi immagine ti pare, qualsiasi idea pensi che ti possa appartenere, ma poi è quello che fai che effettivamente determina chi sei. Tutto il romanzo si gioca su quest'idea del doppio. Ci sono queste due donne che erano state giovani e di successo insieme, nello stesso momento. Ma poi le loro strade vanno in due direzioni quasi opposte. Melissa si costruisce pian piano alla sua felicità, un marito, due figli, mentre Clara inizia il suo viaggio di infelicità, anche se, a dire la verità, la sua infelicità era iniziata prima di quel film. Sullo sfondo c'è un dubbio che incombe. Potevo essere io, ma anche, forse sono anche io. È un romanzo di certo giocato sullo specchiarsi. L'una si specchia sull'altra, nell'altra. È una cosa che io ho tantissimo affrontato nei miei romanzi. Cioè, se proprio c'è un filo rosso che cuce i miei romanzi, al di là del primo, che ovviamente era una cosa a sé, è proprio questo doppio. Cioè, il modo in cui si è anche donne, questa molteplicità di essere donne, di occupare il mondo in quanto donne, in quanto corpi femminili, tutte diverse, tutte assolutamente opposte. E questa è una cosa che, appunto, io ho cavalcato molto nei miei romanzi, che fa parte proprio del mio modo di approcciarmi anche alla scrittura. Quello di raccontare due mondi femminili, che in questo caso sono quello di Melissa, che è fondamentalmente il mio, perché quello che racconto in questo libro è assolutamente veritiero rispetto a quello che è la mia vita, con la mia famiglia, il mio lavoro. E poi c'è questa donna oscura, questa faccia nera della luna, che è clara. Da appassionata di tarocchi posso dire che questo è molto ben rappresentato, per esempio, da figure come gli arcani maggiori della papessa e dell'imperatrice, no? Sono queste due figure femminili che rappresentano l'una all'opposto dell'altra e quindi sicuramente lo specchio, come dicevo. Certo, a un certo punto Melissa, io, trattino io, si chiede se quella donna poteva effettivamente essere lei. Ed è questo che è un po' la sgretola, è questo che un po' la fa entrare in un abisso dentro cui Clara è ormai da troppo tempo, forse da sempre. E' quello poi il ruolo che hanno tutti i doppi, no? Cioè trascinarci nei luoghi che pensiamo così lontani da noi, che in realtà però forse ci abitano e dentro cui abitiamo senza neanche saperlo. La storia di Clara è segnata da un grande buco che sono i suoi genitori, soprattutto sua madre, che è una donna che non sa amare e che è invece ossessionata dal denaro, che chiede in continuazione a Clara, inventandosi bisogni e bugie a cui lei finge di credere. Perché Clara si fa prendere a questo laccio? E da dove viene il senso di colpa che non le fa mai dire di no? Perché per quanto guastato il laccio con la madre è indistruttibile, è qualcosa da cui non ci si riesce a slegare in nessun modo. Come dire, è il legame per eccellenza, è il legame che non si può rompere, anche se tu vuoi tantissimo, anche se proprio detesti quel tipo di legame che appunto ti tiene ancorato a una storia dolorosa, a una persona che ti frisce. Quella cosa è indistruttibile. Clara sa che sua madre la sfrutta, Clara sa che sua madre fondamentalmente le vuole bene solo finché riesce a darle soldi, però nello stesso tempo non riesce a spezzare quella catena, perché è la catena della vita, è la catena dell'appartenenza che non è necessariamente amore, è quello dell'appartenersi in un modo che ha molto a che fare appunto anche con il denaro, perché quel senso di appartenenza ha proprio a che fare con la materia, cioè ti appartengo perché io sono materia tua. Ieri ho finito di guardare la fiction tratta dal romanzo di Elsa Morante, la storia, e vedevo la scena terribile, toccante della madre che dà l'ultima mestolata di minestra al figlio e poi lecca il piatto perché lei sta morendo di fame, affamata. E ho pensato, ecco, la mamma di Clara non l'avrebbe mai fatto, la mamma di Clara avrebbe prima lei mangiato la minestra, poi dato i rimasugli a Clara, però se Clara le avesse leccati le avrebbe detto ma cosa stai facendo, non ti vergogni. Ecco, questa è la mamma di Clara e questo è l'amore malato, perché comunque si tratta di un amore perché si tratta di un legame dentro cui è cresciuta Clara e dentro cui è cresciuta la consapevolezza della materia e quindi dei soldi. È abbastanza paradossale che la storia di Clara sia una storia di soldi, perché a lei i soldi non sembrano interessare davvero. Ha una vita dispendiosa ma più che altro per far contente alle persone che le stanno intorno e a cui vuole bene. I suoi soldi alla fine vengono saccheggiati un po' da tutti, tranne forse che dall'uomo che l'ha amata per davvero e forse l'ha amato più degli altri, il suo fidanzato Trevor, che i soldi invece li disprezza perché è nato ricco e per ideologia. È interessante questo racconto che tu fai dei vari punti di vista sul denaro che hai a seconda di come sei nato. Per forza, per forza. Guardandomi intorno è sempre più o meno andata così. Io ho sempre riconosciuto per esempio nelle persone molto ricche non il disprezzo del denaro ma la vergogna del denaro perché sono nate ricche e quei soldi non li hanno fatti loro e quindi si vergognano perché non gli appartengono. Infatti le persone molto molto ricche vestono anche un po' trasandate e comunque non vogliono mostrare di avere soldi. Quelli che invece diventano ricchi lo devono far sapere quindi non c'è assolutamente la vergogna ma c'è la voglia di esibirsi e di esibire quanto sono stati bravi a fare soldi. E in questo senso i soldi determinano davvero chi siamo. Io sono questa cosa qui anche esteticamente sono questa donna che porta questo doppio petto e queste scarpe e questi gioielli perché voglio farti sapere in qualche modo come sono nata. Quindi raccontano molto la tua storia, la tua storia personale, la tua storia antica che viene spesso prima che tu nasca. Quando ho finito il libro mi sono chiesta se questa storia dicesse una cosa, che certi destini sono segnati. Oppure tornando a quell'ipotesi di cui parlavamo prima che anche Melissa in fondo poteva finire come lei, invece ci dice che poi la vita ti presenta sempre delle occasioni per cambiare. Non ho deciso e quindi lo chiedo a te. Sono una persona molto ottimista quindi come scrittrice questo ottimismo sicuro entra in qualche modo nelle cose che faccio fare almeno uno dei personaggi. Io credo che la vita ti presenta moltissime occasioni di redenzione, di salvezza e che il coraggio alla fine aiuta davvero. Cioè quello che si dice il coraggio aiuta gli audaci, no? Clara questo non lo crede. Clara ha perso troppo e non soltanto in termini di denaro. Clara ha perso tutto. E quindi decide di non darsi più speranze, decide che il suo destino è ormai segnato. Ma in qualche modo l'ha deciso lei, cioè non è qualcosa che arriva da fuori. Il destino non è qualcosa che qualcuno a un certo punto ti affida e tu te lo ritrovi così pronto da vivere. È qualcosa che tu costruisci ogni giorno. E Clara con le sue scelte, con le sue esperienze che l'hanno portata a fare determinate scelte, compie il suo destino. Nel libro Melissa a un certo punto dice che scriverà un libro sulla vita di Clara e si impegna ad evolvere il ricavato delle vendite a Clara stessa. Allora io non ti chiederò se questa storia è vera, però ti chiedo come mai hai deciso di giocare con questa verosimiglianza. Il libro si gioca tutto sulla verosimiglianza. Come dire, è un documentario, come si può dire, una docufiction. Dunque è tutto giocato su questo e se la domanda è se hai aiutato Clara, certo, l'ho aiutata moltissimo. L'ho aiutata moltissimo anche se lei spesso non si fa aiutare perché il destino di Clara è anche un po' quello, no? Cioè aver avuto così tante disgrazie proprio perché non è mai stata capace a chiedere aiuto, non è mai stata capace ad accettare i regali, i doni, le offerte, i buoni consigli e quindi il mio aiuto è stato anche imposto, no? E Clara non è certo una che si fa imporre le cose. Visto che sei astrologa e consultante di Tarocchi, voglio chiederti se hai guardato nel futuro di questo libro. No, non lo faccio più, non lo faccio più perché l'ho sempre fatto in passato e in passato le risposte erano sempre molto positive e poi in realtà non era così, quindi è sempre stato il contrario. Cioè che magari quando ci si legge il futuro lo si legge sempre in maniera negativa per poi avere la bella sorpresa che in realtà le cose possono andare meglio di quanto te ne se resti aspettate. Invece nel mio caso è sempre andata al contrario, cioè carte, stelle fantastiche e poi la realtà era tutt'altra. No, non lo faccio più, non mi chiedo più come andranno le cose. Me lo sono chiesto per tanto tempo, insomma io sono vent'anni che scrivo libri e li pubblico e ne ho scritti tanti, però a un certo punto ho smesso di chiedermi cosa succederà. Ma hai smesso di interrogarti sul futuro dei tuoi libri o sul tuo in generale? No, questo proprio in generale. Cioè da quando sono felice e da quando… sì, sono felice, lo posso dire perché non è brutto dirlo ad altavoce, anzi. Da quando sono felice ho smesso di chiedermi che cosa accadrà perché va bene così, va bene tutto così. Cioè non è che accetto l'esistenza con quella forma di sopportazione di chi appunto ha vissuto tante cose, qualcuna felice, qualcuna molto meno. Non lo dico con quel senso di stanchezza, tutt'altro. Lo dico perché so che quando sei felice devi riconoscerlo e quindi non farti troppe domande. Io sono da tanti anni felice adesso e quindi non ho più bisogno di aprire porti che mi trascinino appunto verso quegli abissi in cui è relegata Clara. Insomma lasciamola lì Clara e io voglio tenermi la mia felicità molto superficiale, così bella e così divertente. Abbiamo dato voce a Storie dei miei soldi di Melissa Panarello, Bonpiani editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. I fonnici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli. Il producer è Alex Peverengo.